Corpo Umbano nasce all'interno di una progettazione che si chiama In Veneto e del progetto in particolare Rigenerazione Urbana per Spiriti Creativi che raccoglie cinque sottoprogetti di cui il film di questa sera Corpo Umbano e Salvatore Insana ne è un'emanazione. I progetti spaziano dalla street art appunto alla video art, l'arte relazionale o di strada e vedranno anche seguito all'interno di una serata che è quella dell'8 novembre in cui presenteremo un ulteriore esperimento di rigenerazione urbana con un'installazione che sarà presente nella corte del Caffè Leonardo da qui sostanzialmente fino a fine novembre. Salvatore, allora, Sandona di Piave, cosa ti è rimasto? Come l'hai rappresentata? È una città diversa da quella che mi aspettassi non essendo un Veneto, non arrivando da lontano quindi ho scoperto una terra ricca di storie, di riti, di figure di diverso genere anche con delle idee contraddittorie sul presente di Sandona e su quello che era la città, su quello che potrebbe essere. Un'ora è la durata del tuo docufilm, tre settimane più o meno il tuo intervento qui tra ricerca e riprese. Quali sono gli aspetti che hai voluto approfondire e portare nello schermo? Il progetto si chiama Corpo Urbano, quindi ho utilizzato questa metafora di pensare la città come un corpo umano, quindi andare alla ricerca di quali possono essere o potrebbero essere gli organi della città seguendo le diverse guide che ho incontrato, quindi dal punto di vista architettonico, dal punto di vista proprio di salute psicofisica, ho cercato di capire se la città è organica o è in fase di smembramento. E a questa tua domanda che risposta hai trovato? Ma ci sono delle ipotesi contraddittorie, in genere mi hanno detto quasi tutti che si vive bene a Sandona, che si potrebbe vivere meglio ma che si vive bene. Più di 50 le candidature per questo progetto, cosa vi ha spinti a scegliere questo artista? Allora, questo artista voleva lavorare su questa idea di corpo urbano, quindi della città come corpo, che è particolarmente convincente parlando di rigenerazione urbana quando vuoi coinvolgere direttamente i cittadini, perché entri proprio all'interno, entri nel vivo, come proprio, cioè, veramente entrare in un corpo. E quindi sicuramente questo a livello tematico. E poi ci hanno convinto i video già presenti in rete dell'artista per una particolare, comunque, un tocco di sofisticata freschezza.